12 ore di stream non so se a voi mi sa che gabrix è tipo il fidanzato mi sa dici secondo me si non c'è nemmeno un'arma no non è gabrix è arrivato stupido in tua difesa ma ti rendi conto di quello che fai muclona lo considero il mio cartellino ai 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 non c'è cosa più divina quanto costano 5 bit 5 centesimi michele se mi voglio comprare il gelato non me lo fanno neanche annusare però il pensiero che conta amiche di che va bene uguale non so mi stanno tirando le le bombe mi stanno tirando è il vostro il vostro facebook 4 4 4 4 4 grazie michele 5 il fratellino dopo 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 tutto vi siete rubati tutto Siete incredibili Michele Mio Ma avete rotto il cazzo Mio ti avete lasciato Mio 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 No Me l'hai rubata ma ce l'ha rubata qualcun'altro ah e si Michele Ma perché ti sparate tra di voi? È più divertente come vuoi mi che sai che io non rifiuto mai mai man viola dov'è capitano da 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 di essi e s grande michelino michelino persona sé del michelino dove azor davvero 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 di essi è grazie michele sento spari qua il cavo qua non è ancora stato toccato si è si è si è scriviti dub 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 fra fai esclamativo giocare fra tp di dub 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 dub? 欸 sarà figlio della...perché mi devi far dire parolacce... della tv dai la riva di anarchy questo lo sapevo allora perché non l'hai detto io dove me ne vado da qua perché hanno fatto il box qui da 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 come vuoi michele sai che io non chiedo mai mi pingate un agente possibilmente la gente seria gente serie e non le vedo questi sicuramente cercherò di uscire da qua è un tagliato la corda qua la corda ma penso che l'hanno tagliato la corda ma guarda roba da matti roba da matti mantagliato la corda da 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 che è l'ho vincita le più più classifica sono sopra mi sembra michele primo in classifica classifica marcatori michele perchè non stanno sconando le spade mi sembra di da 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 bbbb Ma di che è che salta cos'è qua? Mi pareva, forca madonna No, ho già preso tutto qua Lo so che hai mazza Ando di un lago e tu non lo capisci Oh no, che ragata Scribidi dab dab Scribidi dab Scribidi dab Qua dentro, ragà Qua Sì, sì Ma veramente da solo? Ma dov'è che non sponano? Perché non le vedo? Dove sono? No Perché non vedo sponare le spade laser? Eh A voi le vedete? No No, non ce n'è Perché non sponano? Esatto non va bene la volevamo la volevamo la volevamo la volevamo la volevamo la volevamo 2 lama 2 lama 3 l'amore a ci sono 4 ti giuro vieni a vedere vieni a vedere se ne sono tra i diritti dada 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 scrive il papà papà a vedere se ne sono 3 tutto scusi per farti guardare no no è vero è vero ti guarda un po ma anche vero appunto mi dico dove vai d'arte dove si è andato adepa ci sono altri succhi su super schiaffo bomba aspetta che l'altro ho perso di lama eccole lì la storia di scuola scuola non trova il caffè no l'altro l'amere scontato venite qualche fine di roba stiamo provando ad arrivare sono in centro a vicenza con amici e amiche ok buon per te e di munizioni di cose di là l'altro però è desponato non sono riuscito ad ammazzarmi continui a fare oro non quanto un po' increma ma car Chi è? Il comandante Rex Chi è il comandante Rex? Come chi è? Il clone blu? No Il clone con la faccia blu Il capitano Cody? No Io C'hai mica niente non c'hai Bello, grazie Ho visto Questo mi ha rassetto Cosa è che hai visto? Sei primo, si? Michele sei primo Diggelo un po' va Primo sogno Io da qua non vedo niente Dab 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 Scrivelci Dab Io sto sentendo rumori anomali.. Però vabbè Qui sono due Splash bello non so come ho fatto sopravvivere c'è gente c'è gente 22 21 però non è che abbia fatto così tanti sono top a prender l'isola si si ma ci sono dei cecchini si si sinceramente io li lascio lì io me ne vo io me ne vo si stanno cecchilando malamente però è che io lo sniper non ce l'ho nemmeno stanno sparando avete cure eh? no io mi c'è spuglio e sto bello tranquillo no dai si si che ladro avete le cure è proprio l'arma che so usare meglio vai vai spara 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 le cure vai niente non le spara stanno pushando eh questi pushando eh secondo me si io me ne vado in fattoria no non mi sembra non mi sembra io me ne vado in fattoria no 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 e sta a combinar g lg se mi volete seguire non sarebbe una brutta cosa io provo di fare io provo a fare di guardia dove sta andando per anche se non mi piace molto questa posizione colpista per chi li ha io ne ho solo 11 50 mi sparano mi sparano è stato molto mamma mia che brutto carattere il posto di una specie ma che qualche servigliato la mia spada carattere tutto carattere no a rietilizzo tutto carattere lmg un'altra soca se qualcuno vuole pigliarsi la spada preferisco il scioco ok per chi lo vuole per questo popolo io santo cosa che c'è da ste casse a chiave qualcosa di buono vai via ma neanche e ti copro così se ti metti dietro di me ti copro un altro sniper blu è anche una migliore di una blu a me però c'è in giro qua c'è il boss là sopra che lo vende vero vero oh spari verso nord guarda vai muflone andiamo i coglioni l'hai comprato? si l'ho preso dovrebbe essere anche il botto qua sotto pietro vabbè Davile esatto compramene uno di assalto oro per favore grazie sparano 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 no mi sembra no potevo spaventare col cecchino oh una sinistra occhio anche quello la c'è lo sniper ho visto cazzo occhio le bombe manda le bombe attenzione a quella di sinistra no cosa ho fatto? che è successo? che abbiamo mandato giù? stavo per finire stavo per prendere princesca sparano dietro spacco non mi spaccate non mi spaccate di niente perchè qui? facciamo l'attenzione ma io me ne scappo qui me ne vuoi sto per prendere spacco non mi spaccate porn spesso c'è il representatives non lo devi fumaci presto con un colpo Oddio merda Ti saluto a Dark Lì sotto 120 One shot One shot lì sotto Devo mancare da scuola Che faccio domani o venerdì Domani che giorno è Lunedì Sarebbe meglio mercoledì Che è infrasettimanale Così spezi la settimana Poi decidi tu Non sei la mia pata guante Non sei la mia pata guante Non sei la mia pata guante Che ha fatto cazzo Stai rianimando 185 Fatto Ho scelto Azoca è bianca Azoca è one shot Dark E Dark Commander sta devastando No Ha detto come stai Dai Commander È il momento Perché c'è un lama Sì Michele Ha detto tutto ok Sì sì Certo Michele Che puoi giocare Scato Ti ha distrutto Ti ha distrutto cazzo È tuo È tuo È tuo È tuo Eh Sei murato Il merda Fallo cadere Fallo cadere No no Aspetta Aspetta No Adesso La corona La corona Commander Ce l'ho già 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 E pigliano un'altra Così ce l'ho i due No Vieni Uno di loro Ti lascia il posto Michele Mk Basta hai vinta No Niente di spada Niente di spada Che singolo Non scrivere queste cose in chat Che poi vanno a riferire Come Dark Vanno a riferire Ah c'è Muflone Vuole stai Stai perarti Cioè Ecco il karma Non riesco a stai perare nessuno Aspetta Occhio Prima che ti fa Come ha fatto con lui Nice Vai tranquillo Aspadate Il signor Skivalker Qua sa usare la spada Ci lascia il posto Amichelino Vittoria coronata Numero 12 Gallo Benissimo Assist 27 Pensa a te